Nel campo del centro-destra, in vista delle prossime amministrative del comune capoluogo, la componente moderata Liguria Popolare e Forza Italia dimostra ancora oggi perplessità nei confronti del sindaco uscente Peracchini. Lega e Fratelli d'Italia invece sono compatti a sostegno della candidatura del sindaco uscente. Ma sì, Lega e Fratelli d'Italia, anche cambiamo, sono compatti a sostegno del sindaco Peracchini che ha fatto bene. Quindi non si può mettere in discussione, secondo noi, un sindaco che ha lavorato bene. Bisogna trovare all'interno di questo nuovo percorso che dobbiamo fare per i prossimi cinque anni, progetti che ci portino tutti insieme a sostenere il sindaco Peracchini nel nuovo mandato amministrativo. I segnali però di divisione nel campo del centro-destra nell'ultimo periodo hanno portato anche delle sconfitte ad Amelia e anche a Savona, che è un comune importante della Liguria. Non c'è il rischio che queste divisioni possano portare a un brutto risultato anche a Spezia? Andando divisi di solito è più difficile vincere. Cercheremo di vincere tutti uniti e cercheremo soprattutto di vincere sui progetti che porteremo avanti per la nuova amministrazione di Peracchini.